Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole, come state? Tutti in classe? Sì, oggi sono messita un po' da un professorina. Tra l'altro vi faccio vedere, ho anche l'agenda davanti, ma perché ho preso gli appunti, per cui ci assemble veramente la prof che fa un appello. E sì, sono stata sfrattata perché di sopra c'è il fratello, per cui non volevo rompere le balle, perché sta dormendo. Oddio che non sente neanche le cannonate lui, però nel caso poi si sveglia, dice con chi cacchio parli, anche se anteriore lo sa quello che faccio. Però vabbè, fa niente, sono andata giù da basso, così tengo anche d'occhio le grandi belve, perché la piccola belve è di sopra. Il video dei preferiti del mese è quello che di solito faccio in collaborazione con la mia viperina dorata, in realtà questo mese lo faccio soltanto io, perché la viperina ha avuto qualche problema e non è riuscita a leggere molto, non è riuscita a guardare film, telefilm, per cui questo mese diciamo lei salta. Però io comunque le mando un mega bacio stra gigantesco, un abbraccio stra stritolante dei miei, e un sacco di bene, un sacco di pulicini. E niente, iniziamo subito, allora con la prima categoria, dopo questo messaggio tipo strano amore, ci mancava la musica dei Beatles di fondo, che non vi metterò tranquilli. E l'argomento libri, dunque, il libro preferito del mese di febbraio, perché adesso siamo a marzo, il facere di Asincourt, di Bernard Cornwell. Finalmente, dopo mille anni ho letto, perché me l'ha regalato la Manu, se riesco poi più avanti vi faccio un video di libri comprati e barra regalati nell'ultimo periodo, perché a parte tantissimo non lo faccio, ma in realtà non ne ho comprati tanti, per cui adesso, nel corso dei sei mesi che non compro libri, qualcosa ho accumulato, vi farò vedere. Comunque me l'ha regalato la Manu per il compleanno, non era il primo libro che leggevo di Bernard Cornwell, in realtà ne avevo letti anche degli altri. Avevo letto i primi due della saga di Excalibur, non è che non mi erano piaciuti come erano scritti, perché scrive molto bene Cornwell, non mi era piaciuto come aveva trattato il mio personaggio preferito della saga, diciamo, di Excalibur, comunque dei Cavalieri della Tavola Rotonda, ovvero Lancillotto. Io sono innamorata di Lancillotto sin dall'infanzia, dal film Excalibur, per cui vedermelo trattato malissimo, perché era un pezzo di merda in quella saga, insomma, non mi ha convinta tanto ad andare avanti, però magari prima o poi mi deciderò. E che Artù è il vero eroe, un po' della faccenda, e poi questo protagonista d'Erfe. La cella di Azincourt mi è piaciuto molto, però passando alla seconda categoria, ovvero personaggio maschile preferito, non vi dico il protagonista del libro, che è Nicholas Hook, non perché non mi sia piaciuto, ma perché è il classico eroe buono, è puro, per cui a me questi qua mi annoiano fondamentalmente. I miei personaggi preferiti sono uno, Sir George Conwell, che è un po' il suo protettore, diciamo, che è questo lord presso cui lui appunto fa l'arcere. Ne parlerò chiaramente meglio poi nel video, quello proprio dedicato ai libri. Ma l'altro personaggio che mi ha colpita tantissimo, anche se compare veramente molto poco, è Lanferelle, che è questo signore, questo nobile uomo francese, che è un pezzo di merda ovviamente. Però è molto affascinante nel suo essere stronzo, e a me piacciono questi personaggi, come voi ben sapete, io non ci posso fare niente. È un personaggio che, nonostante appunto, come dicevo, compare molto poco, comunque lascia veramente il segno, quelle poche volte che compare. Però addirittura Sir John Conwell, che invece è uno un po' più terra a terra, molto inglese, però lord, però non così tanto lord, soprattutto nelle maniere, addirittura considera un suo pari. Per cui a quel punto ho detto, ok, posso anch'io ammirarlo, Lanferelle. Personaggio femminile preferito sono, io ho scritto qua le donne, però in realtà una in particolare, ovvero Volumnia, che è la mamma di Caio Marcio Corriol, non ce la posso fare, nell'omonimo dramma teatrale di William Shakespeare. Ma è una donna con le palle, e una cosa che io amo tantissimo nelle opere teatrali di Shakespeare, è che le donne, nonostante all'epoca chiaramente non potevano fare un tubo, non potevano neanche recitare a teatro, perché come voi ben sapete erano gli uomini a fare le parti femminili, hanno sempre una forza di carattere enorme, appunto nelle opere di William Shakespeare, lui le tratta benissimo, addirittura spesso e volentieri sono più forti comunque degli uomini. In questo dramma in particolare, Volumnia, per quanto all'inizio magari si lascia scappare di bocca alcune cose che non ce la fanno amare molto, perché lei, capito, considera i suoi figli soprattutto in veste di soldati più che di figli proprio, cioè diceva mio figlio se si copre di vergogna può anche non tornare a casa, può anche rimanere là, anzi se muore in battaglia meglio perché è molto più onorevole. C'è questa scena finale in cui lei appunto nel quinto atto va a chiedere a Coriolano di non attaccare Roma, poi la storia la racconterò meglio in un altro video, in cui, cioè, è meravigliosa, cioè questa va dal figlio soldato, un soldato di quelli truce, cioè cattivo, cattivo Coriolano, oddio, violento, comunque un uomo che comunque si fa molto muovere dalle passioni, capito, e lei riesce a dirgli guarda abbassa un po' la cresta caro perché non è proprio il caso e riesce a convincerlo appunto a fare questa pace, lui che fino a due pagine prima diceva adesso vado a Roma faccio su un macello di quelli, è una carneficina pazzesca, meravigliosa volumnia. Fumetto? No, prima è la citazione, perché non ho la pagina davanti ragazzi, per quello. Citazione Pezzo fa chi è appunto è nel quinto atto del Coriolano, ed è Coriolano stesso a dirla questa frase, questo versi, che recitano così, ve li leggo, Donne, voi meritate a Roma un tempio, tutte le spade che sono in Italia e i suoi eserciti confederati non avrebbero fatto questa pace. Fantastico, cioè Coriolano stesso che riconosce il potere appunto di queste donne, donne perché in realtà non c'è soltanto volumnia, ma in questa scena finale c'è anche Virginia, che è la moglie di Coriolano, che in realtà fino al primo atto non può una mezza sega, però effettivamente qua riesci a convincerlo comunque, è un po' più con le buone maniere rispetto a volumnia, appunto a fare questa pace. Fumetto del mese, ho letto un pochino meno questo mese, però mi sono concentrata di più su alcuni fumetti in particolare, in questo caso vi cito Preacher. Preacher è un fumetto di Gartennis, poi ve ne parlerò sempre meglio, comunque in questo video sono tutte cose citate che verranno poi approfondite. Preacher è questo fumetto di Gartennis, mi sta piacendo tantissimo, io sono arrivata al quarto o quinto volume, non mi ricordo, e io voglio tantissimo l'edizione che è uscita adesso, quella strafiga, non perché sia molto di facile lettura, ma in realtà soltanto perché è bella da vedere, sto cercando di recuperare, i volumetti sono piccoli, perché adesso lo sto leggendo in pdf, se qualcuno di voi li vende per caso, e me lo vuol far sapere, ci si può mettere d'accordo eventualmente, ad un prezzo ragionevole, non come su tipo ebay, che ti vendono i volumetti quelli sciolti, ad un prezzo non maggiorato di più rispetto a quello che effettivamente costano, cioè un conto è al prezzo di vendita, oltretutto se sono usati vorrei dire che ho un minimo di sconto, magari ci sarebbe anche un pochinino. Detto ciò passiamo al passo successivo, ovvero poesia o saggio, io considero William Shakespeare pura poesia, per cui vi dico il Coriolano, che ho finito di leggere e che è veramente bellissimo, ovviamente l'ho letto in vista del, non dello spettacolo teatrale, però sì, dello spettacolo teatrale che portavano al cinema, per cui l'ho letto e riletto alcune parti perché l'avevo iniziato un sacco di tempo fa, poi non l'ho finito non perché non mi piacesse, ma perché facevo fatica a concentrarmi e quando si legge Shakespeare bisogna un attimino concentrarsi, in ogni caso è sempre scritto benissimo, è sempre William Shakespeare, ci piace sempre tantissimo. Film, film preferito del mese, Nuova Visione, ne ho due, uno è Only Lovers Left Alive di Gingiarmo, che finalmente sono riuscita a vedere, magari vi farò un video più avanti ed è un film veramente bellissimo, però devo rivederlo perché c'è tanto tanto e per me è un film che va rivisto per riuscire a comprendere, cioè non a comprendere, però a cogliere tutte le varie sfumature, perché è particolarissimo come film sui vampiri e c'è un film per fanboy, per fangirl, non so, del rock classico, della letteratura classica, di tutto il classico, per cui bisogna assolutamente rivederlo. L'altro che mi è piaciuto molto è Margin Call, che è un film di qualche anno fa, non mi ricordo il regista, ed è ambientato praticamente tutto in una notte, a cavallo del famoso crollo di Wall Street che c'è stato qualche anno fa. È un film che nonostante io non abbia capito un canzo quando parlavano di stock option e quant'altro, però veramente ottimamente recitato, ottimamente diretto, con un cast pazzesco e mi è piaciuto veramente veramente tanto, era parecchio che volevo vederlo e finalmente ho riuscita su Sky quando i miei non c'erano perché avevo Sky a mia disposizione, ma i Sky a mia disposizione per cui a lei mi sono messa a guardare film a manetta appena avevo tempo. Film, visto, rivisto e stravisto, ho riguardato La Storia Fantastica. Che è un film bellissimo io, insomma mi fa tornare comunque indietro della mia infanzia. L'ho riguardato perché avevo appena finito di leggere Cuore d'Inchiostro, avevo voglia di favola, di film, di quelli vecchi, e Stardust me lo ricordavo ancora troppo bene, per cui ho detto quasi quasi mi riguarda La Storia Fantastica, che è tantissimo che non lo vedevo ed è sempre meraviglioso. Poi amo il personaggio di... come caspita si chiama? Inigo Montoya, sì, quello che dice io su Inigo Montoya, tu hai ucciso mio padre, preparati a morir. Il migliore attore del mese, a parte tutto il cast chiaramente di Margin Call, che è veramente altissimo, ci sono tantissimi attori, cioè il cast maschile, perché in realtà in inglese solo Danny Moore, ma fa una particina del caspita, per cui Kevin Spacey, Zachary Quinto, c'è dentro Paul Bettany, c'è dentro, che è meraviglioso, ha un monologo stupendo in macchina, lui che è veramente molto bello, per cui per questo vi consiglio anche di vederlo al film, c'è dentro Stanley Tucci, c'è dentro Jeremy Irons, Simon Baker, insomma c'è veramente un cast gigantesco, ah, Pam Bagley, non so come caspita si chiama, il gossip di vero comunque lui, quel tizio lì, fa una particina del manga, però è bravo anche lui, perché qui si rinnova la teoria, per cui se hai un attore, sei bravo e al giusto regista, poi è ancora più bravo, e poi chiaramente Tom Hiddleston nella parte del vampiro Adam, che è veramente meraviglioso, mi è piaciuto perché ha fatto una parte un pochino diversa dal solito, anche se qua è un po' più l'eroe romantico, dannato, pochi a cuore, cuoricini che girano, e via dicendo, miglior attrice femminile, Tilda Swinton, che è sempre bellissima, Allora, miglior serie televisiva del mese, io non ne ho guardate tanto, però ho rivisto Hannibal, e merita di essere citata ovviamente, la serie di Hannibal fu pazzesca, le prime puntate non mi piacquerò tantissimo, poi sapete che andando avanti me ne sono assolutamente innamorata, adesso è iniziata la seconda serie, ovviamente non ve la cito perché ho visto una puntata, perché non vi so dire come sarà poi l'andazzo di tutta la serie, però la prima serie sì, nel caso qualcuno di voi non l'abbia mai vista, insomma questo è un buon motivo per recuperarla, non perché ve la sto citando io, ma perché è veramente merita, e poi oltretutto se vi piace il personaggio di Hannibal Lecter, dai film o dai romanzi di Thomas Harris, cioè non potete perdervelo, perché qua vi dà, come dire, degli scorci di Hannibal, prima che Hannibal fosse l'Hannibal the Cannibal, cioè non che qui non si mangi le persone, ma lo vedete all'opera di psichiatra, quando ancora non era in galera, c'è ancora qualcuno di voi che non lo sa questa cosa, tra l'altro di questa serie televisiva, io non credo, non so neanche perché lo sto dicendo effettivamente, è giusto per perdere tempo, miglior miniserie, io la considero una miniserie, perché so che avrà altre stagioni, però funziona un po' come American Horror Story, cioè una serie, un cast, seconda serie, altro argomento, altro cast, ovvero True Detective, True Detective io l'ho scoperta per curo caso, non sapevo neanche chi ci recitasse dentro, è che tutti la nominavano, e allora ho detto, ma quasi quasi me la scarico, no? E allora sono andata a scaricarmela, ho iniziato a vederla, e gli sono partita in quarta, non ci sto più capendo niente, è una serie meravigliosa, mi piace tantissimo perché ha un po' di rimandi ai romanzi, ai romanzi alla James Earl Roy, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, e mi piace tantissimo queste atmosfere da profondo sud americano, mi piace tantissimo queste atmosfere alla Twin Peaks quasi, soprattutto per quanto riguarda la parte un pochino più filosofica, e non so, quasi simile a religiosa, no? Che, c'è questo un po' alone, che per me è un po' tutta la serie, ed è stratosfericamente bella, incasinata, siamo arrivati alla penultima puntata, io non so che cosa succederà, adesso nell'ultima, voglio rivederla subito, cioè appena è finita la voglio rivedere tutta da capo, perché per me mi sono persa 8000 passaggi, e devo assolutamente cercare di raccapezzarmi, in realtà perché quando iniziavo a parlare Rusty, no? Cioè mi lo stavo lì così, e non capivo che cazzo diceva, e per me, cioè è fatto apposta per incasinarti l'idea di quello che diceva Rusty, anche se fa dei discorsi intelligenti, nel momento in cui riuscite a ripigliare il filo dei suoi discorsi, assolutamente illogici, e miglioratore del mese, c'è già il miglioratore, non mi ricordo, pentirò a morte di aver detto queste cose, succederà un disastro, verranno giù rane, pioveranno larve, io me lo sento, un moment'io ecco, io non l'ho detto, avete visto soltanto la foto, ma in realtà, tra l'altro ho scritto McChicken qua, perché non riesco mai a scrivere il suo nome, ancora non ho capito come si scrive, e niente, succede che dopo anni passati a fare il commediole del cazzo, arriva bello bello, lui decidi di farsi un personaggio che mi ricorda i personaggi di Leigh Confidential, più altri vari personaggi di James and Roy, che io amo la follia, come voi ben sapete, sono quei personaggi che, capito, non sai se prendere a schiaffi, se hai capito, innamorartene follemente, dire ok sposami, prendimi qua direttamente su questo tavolo, o come fa un altro personaggio della serie, direttamente addosso alla cucina, e tu non puoi fare a meno di innamorartene, se sei me che adori James and Roy, e vabbè, succede che ti piace anche l'attore a questo punto che lo fa, perché, cioè, merita, non so perché sto dicendo queste cose, non dovrei dirle, perché ha appena rubato l'Oscar uno degli attori che amo dalla mia infanzia, dalla mia adolescenza, vabbè, niente, saltiamo il capitolo e parliamo meglio di McChicken un'altra volta, che è meglio, miglior attrice invece, mi è piaciuta tantissimo per me, è bravissima, sempre in questa serie, sempre in True Detective, è Michelle Monaghan, che fa la moglie di Marty Hart, ovvero Woody Harrelson, lei è bravissima, un'attrice che si è vista tantissimo, anche lei in qualche commedia, in qualche altro film, comunque un po' action o così, però non è mai spiccata, non ha mai fatto quel ruolo che tu dici, cacchio, veramente brava, e qui invece per me lei, è meravigliosa, perché è un po' il trade union tra questi due personaggi, è una donna forte, sicura di sé, però non succube del marito, che sa farsi valere con quel pezzo di merda che ha sposato, che si prende una vendetta della Madonna, ma Maggie dovevi farla durare un po' di più quella cosa lì che era meglio, insomma è pazzesca, è un personaggio veramente stupendo, e merita di essere vista questa serie anche appunto per questa caratterizzazione di questo personaggio femminile. Poi, il momento fuck yeah, a parte tutta la serie True Detective, che è un fuck yeah unico, direi che il momento fuck yeah per eccellenza è stato l'incontro tra Will e Hannibal, nella prima puntata della seconda stagione di Hannibal, c'è questa scena in cui Will, che ha detto, nella prima serie lui diceva non guardava in faccia le persone, perché gli occhi ti possono distare, dopo ti focalizzi sul colore della pupilla, sulla venetta rossa, io non li guardo perché gli occhi mentono comunque, ci focalizziamo su delle cose che magari non sono importanti, e allora lui non guarda mai l'interlocutore negli occhi. Qui lui è in questa gabbia e parla con Hannibal, si alza in piedi e lo fissa tutto il tempo che gli fa questo punto monologo, in cui prima gli dice che loro assolutamente non sono amici, per cui non alza a darsi a chiamarlo amico, e poi gli dice aspetta aspetta che io mi ricordi, e poi nel momento in cui ricorderò vedrai che ci sarà un confronto tra noi due, e ti faccio un culo così. Cioè in quel momento ho amato Will, e in quel momento ho trovato figo Will, perché normalmente Will è un ciccio bello suo, è un bambolotto, è bello perché ha la barba disegnata, cioè se voi prendete il ciccio bello, lo dicevo con l'Annie, e ci disegnate sulla barba, è Will, è lui, è Hugh Dancy, che è carino, però non ti muove questa cosa dell'ormone, e lui dice no dai, non che dobbiamo basare tutta la serie su sta cosa dell'ormone, però per dire non è quel personaggio che dici, vai grande figo ammazza, io in quella scena ho detto sì, ti prego, esci da quella gabbia, prendi Hannibal per il collo, ammazzalo, perché tu vedi Hannibal con questo musetto, come se ti ricordi, Reckoning sicuro, certo come no, in quel momento io ho tifato potentemente Will, speravo veramente che spaccasse due verte per Hannibal, perché è veramente un figo in quella scena. Poi il momento Don't Cry, in realtà è stato un momento di gioia eterna, che non è una serie televisiva, però è un film televisivo, che è il film di Mansfield Park, quello del 2007, forse quello con Billy Piper, comunque che era di ITV, che ho visto finalmente dopo sei secoli e mezzo, perché io di Mansfield Park non l'amo particolarmente, per cui a parte il film che ho visto 600 secoli fa, non mi sono mai focalizzata più di tanto, e comunque ho deciso di vederlo, mi è piaciuto tantissimo, tanto ci sono 8000 attori da 8000 serie diverse, a parte Billy Piper che era ex actor who, c'era dentro anche, e ciò posso fare, Blake Ritson che era quello che fa Riario in Da Vinci's Demons, e poi c'era, e ho fatto Emma anche, mi ricordo, era in Emma che faceva quello che ci provavo con Emma, che dopo si sposava con la sciacquetta, il reverendo, Collins forse si chiamano, mi ricordo, e poi c'erano dentro anche altri attori, che ho visto in altre serie, ma in questo momento mi sfuggono tutti, ah c'è dentro anche Haley Atwell, per esempio, insomma c'è dentro un po' di gente da altre serie, risumanze in giro, ecco, niente, il video dei preferiti del mese è durato tantissimo, però io ho finito, e dopo questo momento di leranda su True Detective, che voi ovviamente vi dimenticherete appena ho fatto, sicché su True Detective, su uno degli attori di True Detective, fate pinta di non averlo sentito, io vi auguro buona giornata, buone letture e buone visioni, e ci vediamo prestissimo, ciao!